Ben ritrovati, carissimi ben ritrovati nel mondo dei veicoli ricreazionali. Io sono ospite di Italia VR Group in compagnia naturalmente di Gianfranco Coatto. Ciao. Ciao Sonia e buongiorno a tutti voi. Benvenuti qui all'Italia VR Group in via Volta 29 a Druento. Come al solito questa diciamo ormai la possiamo definire la casa del veicolo ricreazionale qui a Torino. La casa anche la reggia diciamo perché veramente abbiamo un prodotto di estrema qualità. Trattiamo i marchi tedeschi che sono in questo momento i migliori marchi sul mercato. Quindi parliamo di Imer, parliamo di Knauss, parliamo di Busner, parliamo di Carado e parliamo di Cartago soprattutto che vedete alle nostre spalle. Venite quindi a visitare e a vedere i nostri prodotti e a farvi fare un prezzo dai ragazzi del commerciale che sono veramente molto ma molto in gamba. Poi sono stati istruiti in maniera tale da potervi accontentare in tutte le vostre richieste. Sicuramente un team di professionisti valido, preparato, pronto ad accogliervi e a spiegarvi nei dettagli la qualità di questi prodotti. L'eccellenza, ribadisco, del marchio tedesco ma non solo, anche un service importante comunque preparato, aggiornato costantemente al servizio della tua clientela. Certo, naturalmente abbiamo il personale, quello dell'officina che viene istruito dalle case madri direttamente in modo tale che ogni prodotto ha una sua specifica, ha un suo modo di lavorarci all'interno, quindi è giusto che chi ci lavora all'interno sia stato preparato dalla casa madre. Questo ci teniamo ma da sempre, da ormai oltre 30 anni. Ma non abbiamo anche il servizio per chi vuole acquistare, quindi i vari finanziamenti a tasso agevolato. Penso che siamo forse l'unica azienda che arriva a fare i 144 mesi come finanziamento. Ma poi i prezzi, i prezzi che i nostri sono veramente i migliori prezzi che ci sono sul mercato, sono i prezzi che ci consentono anche di darvi un servizio post vendita che consideriamo unico nel nostro settore. E non dimentichiamo comunque il mondo dell'usato, anche qui si fanno gli affari. Certo, affari in questo momento sono molto molto buoni, abbiamo del prodotto fresco, abbiamo del prodotto meno fresco, quindi un po' per tutte le tasche, un po' per tutte le esigenze, per il neofita che vuole incominciare, per l'esperto che vuole invece cambiare il mezzo e fare un salto di qualità senza dover spendere delle cifre improponibili. Quindi venite a vedere, anche lì naturalmente finanziamenti, anche lì naturalmente possibilità di accessoriare i vostri mezzi con l'aftermarket, quindi con gli accessori, i componenti, i ricambi e naturalmente, cosa che è sempre più rara nel nostro settore, tutto quanto viene effettuato all'interno della nostra azienda, da nostro personale. Bene, il mondo del plein air a 360 gradi, ma un po' di tempo ce l'abbiamo per mostrarvi delle chicche, state con noi. Cominciamo dal marchio storico di Italia VR Group, Casa Imer, un prodotto peraltro molto fresco questo. Sì, assolutamente sì, siamo nell'anno 2013 di costruzione, è una macchina veramente straordinaria, compatta, molto piccola, 6 metri, il nostro prezzo è 61 mila euro, siamo rispetto al nuovo al di sotto del 50%. Proseguiamo sempre in casa Imer? Assolutamente sì, ne abbiamo una bella sfilza questa settimana. Allora, 6,94 nella versione SL, doppio pavimento, telaio alco, anno 2013, 20 mila sono i chilometri, 68 mila euro nel nostro prezzo. Per gli amanti della patente C e del cambio automatico, questo Imer BL694 dell'anno 2011, 59 mila e 900 euro il prezzo che chiediamo. Altro tedesco, naturalmente alla corte qui dell'Italia VR Group, le Lobby Van T60, questo è un mezzo molto compatto, metri 6 di lunghezza, è una meccanica, è la meccanica della Ford, 32 mila e 500 euro il nostro prezzo. Naturalmente abbiamo anche dei furgoni attrezzati, ne abbiamo diversi, questo è uno su tanti ed è della POSL, quindi uno dei marchi più conosciuti assolutamente in Europa, la versione è la Twin, i chilometri sono 37 mila, il prezzo è 33 mila e 600. Ha veramente tanti accessori questo mezzo, venite a vederlo. Altro motorhome, anche questo della Imer, doppio pavimento, grande ammiraglia anche questo qui in casa Imer, questo lo vendiamo ogni mille chilometri, mille euro, a 47 mila chilometri. Questo è abbastanza difficile da trovare sul mercato dell'usato, ne sono stati venduti pochi esemplari, è il modello 518 SL della Imer, è un mezzo molto compatto, 6 metri 60, doppio pavimento, telaio alco, venite a vederlo perché è veramente molto ma molto interessante, naturalmente gli accessori sono quelli importanti, dalla veranda, pannello solare e via discorrendo, 54 mila euro il nostro prezzo. Non solo Imer, naturalmente qui dall'Italia VR Group, questo è un semi integrale della Chauxon e il Welcome 65, è un semi integrale che ha anche il letto basculante. Venite a vederlo, 24 mila e 500 euro il nostro prezzo. Un bel mansardato della Mirage, questo è un mezzo veramente molto ma molto ricco, 14 mila e 900 euro il nostro prezzo, venite a vederlo perché è un 6 posti con due letti a castello in coda, molto bello. Altro mansardato, anche questo veramente molto bello, anche questo con i letti a castello, quindi se la famiglia è numerosa questo è il camper che fa per voi, euro 26 mila e 500 il prezzo. Questo è un mezzo veramente straordinario che si trova raramente sul mercato dell'usato, la carrozzeria che lo ha costruito è la VAS, chi si intende di camper sa di che cosa sto parlando, venite a vederlo perché è veramente super accessoriato, da pannelli solari a veranda, a generatore di corrente, doppio climatizzatore, antenna satellitare, montato su meccanica Iveco, attenzione è una patente C e per il prezzo andate a guardarlo su ItaliaVR.it. E concludiamo in bellezza vicino ad un altro brand molto importante di quest'azienda, il marchio Knauss. Sì, certamente Knauss che è uno dei marchi tedeschi che vi proponiamo, quindi Knauss, Busner, Carado, Cartago e il nostro core business che è Imer. Bene, venite a vederli, venite a provarli anche i camper perché si possono provare. Assolutamente sì, fatevi fare il preventivo da Laura per il noleggio del motorhome, noi noleggiamo un motorhome, quindi fascia altissima di mercato. E poi non dimentichiamo comunque lo showroom, quello del piano superiore, dedicato agli accessori tantissimi, veramente da perdersi, perché c'è di tutto di più. Sì, hai detto bene, c'è di tutto di più, non c'è nulla che ci sia sul mercato del plein air che noi non possiamo avere o non abbiamo già magazzino, non abbiamo già in casa da potervi offrire immediatamente. Tutto questo e molto di più, ItaliaVR Gruppo in Via Volta 29 a Druento, grazie alla prossima. Grazie a te e anche a tutti voi, alla prossima.